Ora tutti si accorgono della pur più volte preannunciata esistenza del West Nile virus, dopo Cremona ave scovato e tanto è bastato perché tutti i comuni vicini, specie quelli dell'Unione Lombarda, Oglio, Ciria, attivassero misure di disinfestazione straordinaria mirata, accogliendo subito l'invito delle autorità sanitarie. Lotto alle zanzare dunque, che tuttavia si sono già fatte tutta la stagione indisturbate ed ora hanno vita breve con l'incalzare dell'autunno. Da notarsi che la TS Valpadana aveva allertato tutti i municipi alla volta dello scorso mese di maggio prima e ad agosto ancora poi, talvolta ascoltata, talvolta meno. Comunque, meglio tardi che mai. Corte De Fratio, Ilmeneta, Grontardo e Scandolare di Padoglio da metà settembre in poi verranno liberate dal fastidioso insetto, almeno dagli esemplari ancora non trasferitisi verso lì di più caldi. Ai residenti verranno fornite tutte le indicazioni da seguire per evitare di venire a contatto con insetticida, benché a basso impatto ambientale. Speriamo che la prossima estate si ponga a mano al problema un po' prima che si manifesti in tutta la sua evidenza.